ciao ciao oggi barzelletta inedita scritta sempre da me il postino belia ho preso su youtube le risate le risate remix vabbè vediamo un pochettino sempre rispondo alla signora che devo consegnare questa lettera vediamo un pochettino dunque sì eccola qua invia ho capito va bene devo consegnare questa lettera andiamo subito dalla signora eccola ho avuto l'email bene andiamo subito dalla signora vediamo un pochettino allora doveva essere questa la strada 22 24 dove è questa andiamo avanti no dove è questa numero 37 è quella là dove è questa va bene allora eccola là ho trovato ho trovato la signora oh mamma mia che brutto suono e allora vediamo un pochettino signora buongiorno buongiorno voi chi siete io sono il il postino belia oh buongiorno buongiorno signora e che desidera eh signora le ho portato una raccomandata fresca fresca di giornata grazie millia prego signora millia me la potrebbe leggere non ciò gli occhiari va bene signora signora lei ha ricevuto un bel buono e un pensiero per lei ma grazie tante grazie e dimmi una cosa millia sì signora quando parte questo buono signora vedi che metta la benzina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti non c'è la faccia bene ragazzi spero che vi sia piaciuto questa battelletta il postino millia fresca fresca di giornata ci sentiamo il mio telecomandino